Salve sono MonkeySimon e finalmente la stagione 2 del capitolo 4 è iniziata e cosa non è questa season è mastodontica! A mani bassissime è una delle stagioni migliori per quanto riguarda l'impatto visivo perché l'estetica è spettacolare. Sappiate che le cose da dire saranno tante, probabilmente avrò missato un botto di cose che ancora devo scoprire perché a livello di contenuto pure di quantità e speriamo pure di qualità, c'è tantissimo. E meno male che dura pure molto meno di quanto avevano detto i leaker, visto che l'hashtag dura 132 giorni ma la stagione dura un mese e mezzo in meno, meno male, finisce a giugno infatti. Quindi si spera per una season breve ma intensa, ma per quanto riguarda il pass battaglia di cui parliamo tra pochissimo se voleste acquistarlo vi invito ad inserire il codice MonkeySimon all'interno dello shop di Fortnite. Se lo farete darete un ulteriore grande supporto al canale oltre a quello che già fate ogni giorno. Io partirei subito dal gameplay perché appena ci capiamo in mappa ci ritroveremo nella solida vecchia mappa del capitolo 4 che siamo stati abituati a vedere per oltre 3 mesi ma che è stata notevolmente ampliata. Quasi nulla è stato sostituito di quello che c'era prima ma è stato invece aggiunto tutto quanto nuovo. Ci ha detto addio fratture ma almeno ci ha detto addio anche tutta quella parte di mappa inutilizzata di cui vi ho parlato tempo fa in un video. E la quantità di cose che sono state aggiunte è infinita, è immensa e soprattutto che densità di luoghi indicati tutti quanti appiccicati in un nuovo bioma. Questa cosa mi ha fatto immensamente piacere e soprattutto perché se eravamo abituati alla scorsa stagione sapevamo perfettamente che era molto noiosa la mappa dopo un po' perché per quanto belli i luoghi erano troppo distanti gli uni dagli altri e tra quegli spazi di distanza c'era il nulla cosmico. Un nulla gradevole esteticamente ma che comunque sia per la sostanza del gioco non appagava. E che tema orientale ragazzi? C'è è stato fatto benissimo, è stato riprodotto benissimo, stereotipato certo con le solide immagini pop che abbiamo nell'immaginario collettivo ma comunque sia questo doveva essere, questo è Fortnite e soprattutto è questo quello che piace alla gente. Si tratta di un compitino sì ma non in accezione negativa, è un compitino svolto bene questa era l'occasione di fare la stagione orientale barra Giappone così la dovevano fare, se no perdevano l'occasione per sempre visto che poi per le 23 stagioni che ci hanno preceduto hanno sempre messo skin e oggetti che richiamavano questo tema qui mo ce voleva la seasona dedicata e sta season dedicata che non si sarebbe mai più ripetuta la dovevano per forza fa così con un tema classico che invece non mi aspettavo ma anche con un tema futuristico neon bobo siamo lì che tutti quanti i fan di qualsiasi cultura orientale saranno contenti perché c'è sta tutto questa è una stagione per tutti quanti i tipi di gusti per quanto riguarda l'Oriente poi se come me ogni tanto giocate con il lumen con i dettagli alti rimarrete per forza colpiti dalla quantità di luci, di dettagli, la pioggia la pioggia, Megacity cioè qui si è visto non solo un impegno di base che abbiamo sempre notato in tutte quante le stagioni ma abbiamo visto un impegno proprio gigantesco perché qui la cura al dettaglio è stata veramente alta sapevano che questo è un tema caro alla community andava sfruttato alla perfezione e per ora a primo impatto, a prima vista per estetica ne sto parlando stanno facendo centro anche se purtroppo a quanto pare tutto quanto quello che ci è stato mostrato non è apparentemente bello nel mondo delle pubblicità è sempre così perché è bellissima questa Megacity sono sicuro che sarà teatro di una marea di fight sarà la nuova Pinnacoli spero che la superi addirittura di popolarità ma purtroppo tutti quanti gli edifici che vedete voi che ancora non avete giocato e qui vi tolgo subito la delusione perché altrimenti ci rimanete molto male non sono veri sono soltanto di sfondo non ci si può entrare non ci saranno tutti quanti questi grandi interni e questo credo che sia per questioni di memoria volevano fare la città gigantesca e forse c'è un motivo perché non l'hanno mai fatta finora perché non c'è spazio le vecchie piattaforme purtroppo credo che non reggano questa quantità di cose oppure avremmo avuto degli interni veramente ma veramente vuoti molto spogli quindi hanno deciso hanno optato per fare dei grandi edifici ma che in realtà sono la stregua delle montagne non sono distruttibili e di conseguenza non sono neanche esplorabili gran peccato gran peccato eh perché anche io mi aspettavo veramente una vastità di interni una vastità di nuovi edifici io per primo volevo le città gigantesche e dense ma purtroppo capisco anche che esistono dei limiti tecnici che fino ad un certo punto non possono essere superati a meno che non si facciano dei progressi e per ora non se ne parla di smettere le vecchie console ricordiamoci pure che questo gioco deve andare sul cellulare e sui telefoni ci stanno una marea un'infinità di utenti quindi che vuoi fare? li vuoi destromettere? non penso proprio il gameplay a prima vista sembra invariato se non per le aggiunte che sono state fatte perché sono state aggiunte le rotaie da grind bellissime riprese da sonic soprattutto per l'estetica anche un po' da recette clank ma è vero che queste rotaie sono molto più strette con le curve e richiamano molto più sonic ma anche le nuove moto le nuove auto che servono molto per derapare per fare quelle curve strette particolari e sono tanta roba sono un ottimo rework delle macchine e delle moto che già abbiamo visto anche la katana oggetto molto immersivo e suggestivo me l'aspettavo molto più banale e invece hanno fatto un ottimo lavoro sia per quanto riguarda le animazioni poi sicuramente la sapremo sfruttare meglio giorno dopo giorno impareremo a capire come funziona però a prima vista ti dà un bel impatto anche i nuovi perk sembrano molto interessanti a me la parte roguelike di questo gioco mi piace un botto quindi non vedo l'ora di fare nuove build e sono sicuro che molti di voi si stanno pure chiedendo che fine abbia fatto questa prima persona di cui abbiamo parlato e di cui hanno parlato soprattutto i leaker beh non lo so manco io non lo sanno neanche i leaker non ne abbiamo visto traccia all'interno dei trailer quindi è presumibile che arriverà nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi anche se fa veramente strano perché se vi ricordate la zero build è stata introdotta nella scorsa stagione 2 ma subito dal primo giorno era la novità forte idem alla creativa 2.0 che però lo posso capire che non sia all'interno di un trailer perché non era nemmeno all'interno del trailer della scorsa stagione ed era prevista per la scorsa stagione aspetteremo aspetteremo ma intanto le novità che già ci stanno mica male eh poi per tornare un attimo sul discorso della mappa e sui nuovi luoghi ma quanto so belli quei luoghi classici giapponesi no quei castelli quei dojo oh quando ho visti c'avevo sto senso di pace di chilling fantastico difficilmente un luogo di fortnite vi suscitava in me queste sensazioni qua ci ho visto molta più cura che nelle recenti stagioni e noi proveniamo dalle stagioni apparentemente belle o apparentemente complicate ma che poi nel tempo si sono rivelate abbastanza scialbe più o meno dalla scorsa estate il pass battaglia invece è stata una piacevole sorpresa una piacevole smentita perché io sono sempre contento dei sbagliamme per quanto riguarda le cose negative che penso perché molti di noi hanno pensato male quando hanno visto le skin dei survey essere quelle del pass battaglia non ce le facevano molto per il tema giapponese non si aspettavano di certo quelle ma devo dire che la maggior parte di queste skin rese in game sono fantastiche certo non delle skin che mi fanno impazzire certo non delle skin che userò sempre però mi hanno piacevolmente colpito felice di che non siano state così negative come le vedevo nei survey a partire dal lucertolone a partire da drift a partire dalla tizia con le fiamme in testa dal teschio ma anche dalla tizia coniglia che sebbene non sia tutta sta grande fantasia è bella è piacevole alla vista è una skin che bene o male riesce a vedere all'interno di questo contesto poi c'è sta skin segreta che boh io non conosco penso sia un personaggio di fortnite perché vabbè i veri anime sono cose tipo pingu ma devo dire che in linea generale la maggior parte degli oggetti e delle skin del pass mi piacciono addirittura ci sono dei balli dei balli non copyright finalmente ragazzi hanno capito che devono rimettere i balli per dare maggiore identità al pass battaglia perché i balli sono una cosa identitaria di fortnite non ci prendiamo in giro esistono su altri giochi esistono su altri giochi che esistono da prima di fortnite ma le emot ormai sono qualcosa che appartiene a questo game as a service di epic e vedere che sono tornati molti balli non copyright all'interno del pass battaglia non può che fa e sorride ah e per quanto riguarda la storyline ragazzi oh adesso dovete andare cattivi a minacciare lele e a intimargli con tanto amore e tanto affetto che quando si parlerà della storyline visto che ci saranno le missioni storyline con ivy che parla dovrà testerne le lodi dovrà decantarne le gesta dovrà sempre parlarne bene perché è il secondo miglior personaggio della storyline di fortnite prima ovviamente jonesy ma sono sicuro che lele è abbastanza intelligente da poterne parlare bene perché i miei due pixel vanno valorizzati oh minacce mi raccomando minaccia amorevoli ma minacciatelo dici però se ci stanno dei buchi di trama non potrà parlarne bene no no non esistono buchi di trama per quanto riguarda ivy è un personaggio perfetto è un esempio proprio da seguire per quanto riguarda la scrittura di un personaggio e chissà ancora quante cose ci abbiamo da scoprire queste qui sono soltanto le prime ore di gioco questo è soltanto il video delle prime impressioni spero che queste prime impressioni possano essere ancora più positive e che possano perdurare fino alla fine della stagione perché tanto Monkeysimon è quello che si lamenta sempre ora però assolutamente voglio sapere che cosa ne pensate di questa stagione quali erano le vostre aspettative qual è stato il vostro impatto qual è la vostra skin preferita del pass cosa avete provato cosa non avete provato cosa vi ha fatto storcere il naso cosa avete gradito a prima vista insomma la sezione nei commenti di questo canale è a vostra più completa disposizione e sapete che ve leggo molto ma molto volentieri vi ringrazio per tutto quanto l'immense e infinito costante supporto che date ogni giorno al canale sapete pure che apprezzo tantissimo vi ricordo di andarvi a vedere se in caso non l'aveste ancora visto il video di Pazzox dove c'è anche la mia reaction al pass battaglia e fatti dovuti i meritatissimi ringraziamenti a tutti quanti non posso che dare l'appuntamento direttamente ad un prossimo video probabilmente non adatto per gli weeaboo i miei nemici mortali in questa season a tutti ma che c***o succede grazie a tutti Grazie a tutti.